Dewey, filosofo e pedagogista americano del Novecento, rispetto all'empirismo classico Dewey sviluppa una diversa concezione dell'esperienza. Nell'empirismo classico l'esperienza è semplificata ed è purificata dagli elementi di caos, di errore, e si costituisce in stati di coscienza chiari e distinti. Nello strumentalismo l'esperienza non si riduce alla coscienza e alla conoscenza, ma include anche i sogni, la pazzia, la malattia, la morte, la guerra, la confusione, eccetera. Include anche ciò che è nobile e onorevole e vero, così come ciò che è sfavorevole è precario e incerto, è irrazionale e odioso. Secondo Dewey l'esperienza è storia nella sua totalità ed è rivolta al futuro. Secondo l'autore il mondo è la scena del rischio, è incerto, è instabile a fronte della precarietà del mondo, nell'incertezza della storia e per sfuggire a tale rischio l'uomo è ricorso a forze magiche, come idee tranquillizzanti, come la filosofia della paura, di cui autori tranquillizzanti sono il filosofo greco e l'aclito ed Hegel. Dewey critica queste filosofie ipersemplificatorie, de-responsabilizzanti e consolatori. Soltanto lo strumentalismo si configura come una filosofia responsabile in grado di fronteggiare il rischio e la precarietà della storia. Lo strumentalismo considera la verità in continuo cambiamento, statica e non eterna. La conoscenza, secondo Dewey, è un'indagine ed è una forma di adattamento all'ambiente, è una pratica che risolve i problemi, ovvero situazioni di incertezza e di dubbio. Le idee sono strumenti, da qui appunto il termine strumentalismo, e sono risoluzioni dei problemi, vengono sviluppate dal ragionamento e verificate dall'esperimento. Anche i fatti non sono dati, ma derivano da una scelta e da un'organizzazione dell'esperienza. L'intelligenza, quindi, è sempre operativa, è una forza attiva che trasforma la realtà in base a scopi tragici. La scienza è la prosecuzione della conoscenza, pratica e quotidiana, ed è il senso comune, ed è modificabile e corregibile. L'etica, secondo John Dewey, è storica, perché i suoi valori, come le idee, i fatti e la conoscenza, non sono assoluti e immutabili, ma sono storici. L'etica è anche sociale, perché i valori si originano nei rapporti tra gli individui e nelle relazioni di questi con l'ambiente. La migliore società è quella democratica, perché libera discussione senza fine assoluti.